Il palco ancora non c'è ma le polemiche sì. Tutto è partito dall'Associazione Cittadini per il Centro Storico che hanno avviato una raccolta firme per far sì che qualora si monti il palco dinanzi a Colle Maggio per la perdonanza ma la cosa è praticamente certa, questo rispetti le prescrizioni della sovrintendenza. Colpevole il palco per i cittadini che sono circa 130 di occultare la bellezza delle due basiliche allargando il discorso a San Bernardino. Il PD ha raccolto l'appello invitando il ministro della cultura Gennaro San Giuliano a dire la sua anche se i cittadini parlano di normale istanza e dicono di non farne una questione politica. I cittadini hanno lanciato la petizione per evitare il ripetersi di ciò che è accaduto negli anni passati, dicono, per salvaguardare la basilica che non era neppure visibile. Hanno scritto così alla sovrintendenza ma anche per evitare il danneggiamento a causa delle vibrazioni. In realtà sul palco le polemiche sono iniziate da anni, da quando si è deciso per la perdonanza di trasformare il sagrato dinanzi alla basilica in una sorta del teatro del perdono. Così lo ha chiamato il direttore artistico Leonardo De Amicis per ospitare gli spettacoli. Allora in realtà hanno già replicato i capigruppo di maggioranza rispedendo le critiche al mittente. Non era necessario scomodare Celestino V, hanno ribattuto e hanno parlato della solita polemica di parte politica strumentale. Nessuno è contrario al palco dinanzi alla basilica di Collemaggio, a patto che quel palco rispetti le prescrizioni della sovrintendenza a tutela del bene monumentale. Quello è un bene monumentale, è un bene immateriale dell'umanità con la nostra perdonanza. La sovrintendenza aveva dato delle indicazioni chiare all'amministrazione. Quel palco doveva e poteva servire ad altro rispetto a quello per cui è stato utilizzato e si doveva montare in un modo da non precludere la visibilità del monumento e la sicurezza stessa del monumento. Se la sovrintendenza che è deputata dallo Stato per tutelare il nostro patrimonio dà delle prescrizioni al Comune dell'Aquila, il Comune dell'Aquila dovrebbe quantomeno rispettarle o quantomeno rispondere ai cittadini che sollevano dei dubbi. Noi questo abbiamo chiesto al Ministro San Giuliano. Cosa ne pensa delle prescrizioni della sovrintendenza e come mai l'amministrazione non le ha rispettate? Tra l'altro aggiungiamo che quest'anno è stato montato di nuovo anche il palco sulla scalinata di San Bernardino, con molti mesi di anticipo rispetto alle iniziative estive e con un esborso economico molto importante. Anche lì vorremmo sapere se ci sono state delle prescrizioni, le autorizzazioni sono state concesse, se le prescrizioni sono state indicate. Le stiamo rispettando perché noi crediamo che quanto dica la sovrintendenza a tutela dei monumenti di questa città vada semplicemente rispettato.